Salone della moto di Milano e per la prima volta entrano le moto storiche e lo fanno con ruote da sogno Io sono con il fondatore Stefano Leotti e con un ospite d'eccezione Charlie Gnocchi che non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di visitare questo stand Uno stand da sogno così come è da sogno tutta la struttura che è realizzata a Reggio Emilia, 5.000 metri quadri, 1.000 moto e anche di più Contenitore importante per le aziende, noi diamo un sogno a chi entra all'interno di questo showroom Quest'idea è nata perché alla soglia dei secondi 30 anni mi sono dovuto inventare una seconda vita e la prima cosa che mi è passata per la testa è gettarmi a capofitto in un'attività che sicuramente mi farà spero rimanere giovane in mezzo a motori, donne e food perché all'interno del nostro showroom facciamo degli eventi molto interessanti Abbiamo già un piano per i prossimi 5 anni dove lo showroom da 5.500 metri andrà a 13.000 metri penso sia unico in Europa, forse nel mondo Il nostro obiettivo finale è riuscire a conquistare i paesi orientali che sono prevalentemente Cina e Giappone In Europa stiamo già cominciando a lavorare molto bene Anche perché a sorpresa Stefano non è un appassionato di motori No, però mi sto affezionando alla cosa Ti stai appassionando? Ci sta appassionando e invece posso dirti da esperto invece c'ha dei pezzi molto belli che gli fanno onore si vede che c'ha dei buoni consiglieri i pezzi fanno onore a una collezione internazionale e può andare a testa alta mi piace che invece è divertente nell'aspetto e nel modo di fare ma le collezioni sono serie La nostra sede è a Reggio Emilia nel cuore della Motor Valley che è terra di motori per cui per noi è facile trovare meccanici, carrozzieri, tappezzieri perché noi abbiamo degli oggetti che hanno assolutamente bisogno di una mano d'opera specializzata di quell'epoca Quando tu vai nel Reggiano, nella bassa, c'è il motuo cioè sono dei tarati del motuo quando si mette a fare le cose e il Reggiano spacca il mondo ci rivediamo presto lì nella sede di ruote da sogno perché ci inventiamo una cosa mega Ed è tutto per il momento da qui dal salone della moto Un saluto anche da te Stefano Un saluto a tutti, grazie Un saluto a tutti Un saluto a tutti Un saluto a tutti